Il nostro ambulatorio si basa soprattutto sulla prevenzione oncologica per le malattie sessualmente trasmesse, prevenzione della gravidanza e quindi seguiamo la donna dall'adolescenza, post-adolescenza per tutto il periodo fertile e poi la menopausa. All'interno del consultorio è nato anche da molti anni uno spazio giovani dove accedono soprattutto i ragazzi, la fascia dei ragazzi per fruire di servizi sia sanitari che psicosociali. Una parte molto importante che viene svolta qui nel consultorio è il percorso nascita. Sempre di più in Italia e anche nella nostra città si seguono gravidanze in ragazze di 16 anni, 17 anni. Accogliere con accesso libero le persone che vengono e hanno le difficoltà e le problematiche varie tra cui anche questa necessità di contraccezione e poi facciamo insomma uno screening e cerchiamo di affiancarci alla ginecologa quando c'è bisogno oppure di risolvere il problema qualora. Possiamo bastare, laddove possiamo bastare. Completamente gratuito e c'è comunque la privacy, cioè in nessun modo poi per i minori al di sopra dei 14 anni vengono contattati i genitori.